Due vittorie ed un pareggio, ma di grande prestigio, e questo è il bilancio del weekend di sport agonistico targato Cus Palermo, l'ultimo dell'anno solare. Calcio a 5, Serie C2, girone A. Il gruppo di Fausto Mangano batte in casa il Pantelleria e continua a macinare vittorie nel girone A del secondo campionato per importanza del futsal siciliano. 8-4, il finale in favore del Cus Palermo, che rimane sempre terzo a quota 30, a meno uno dall'Atletico Capaci, Real Futsal ancora in fuga a 36. Palla a mano, Serie B. Sesta vittoria consecutiva nelle prime sei giornate per il Cus Palermo allenato da Walter Pezzer. La compagine giallorossonera al Palacus supera 26-15 in Reggio Calabria e prosegue la sua corsa in vetta. Match mai in discussione, chiuso nel primo tempo in vantaggio per 12-6. Nella ripresa, Pezzer dà spazio ai giovani e chiude nel finale il risultato sul 26-15. Calcio, promozione, girone B. Il Cus Palermo di Marco Aprile nel corso del sedicesimo turno di campionato pareggia 1-1 in trasferta contro la corazzata del Girone, il Rocca di Caprileone. La formazione di Vialtofonte va sotto già al secondo minuto, ma è questa la scintilla che innesca l'ottima reazione. Ne deriva un palo ed un paio di nitide occasioni. Il parziale al 45esimo non cambia e nella ripresa aprile passa al 4-2-4, trovando il pareggio all'ottantesimo a 10 dalla fine ancora con il solito Lentini. Cus Palermo sempre terzo a 32, a meno 4 dal Castelbuono secondo e a meno 7 proprio dalla capolista Rocca di Caprileone.